13 novembre 1971. La sonda americana Mariner 9 raggiunge Marte. È la prima sonda a orbitare attorno al pianeta rosso. Raccogliendo il testimone della gemella Mariner 8, che aveva fallito al momento del lancio, la sonda continuerà ad orbitare intorno a Marte fino al 27 ottobre 1972, inviando sulla Terra oltre 700 foto. La Mariner 9 rivela la presenza di grandi crateri vulcanici sulla superficie marziana e indizi importanti della presenza di acqua sul pianeta in epoche remote. La sonda Mariner invia anche le prime immagini dettagliate delle due piccole lune di Marte, Phobos e Deimos. Grazie a tutti. Grazie a tutti.